ciao a tutti sono qui per chiedere il vostro aiuto è scomparso peo il mio pinguino preferito è una settimana ormai che non torna a casa è uscito una mattina verso le 10 per il suo solito giretto in skate ed è da allora che non lo vedo più io l'aspettavo per pranzo avevo preparato il suo piatto preferito calamaretti caramellati sono rimasti tutti lì io non so più niente non sa più fine affatto quel giorno ho aspettato fino a tardi e non è più tornato sono andato allora a cercarlo per strada e rifatto ho chiesto ai suoi amici al parco ma non l'avevano visto allora ho percorso la strada che faceva di solito e ho trovato questa la sua mattina preferita credo che non si sarebbe mai separato da lei quindi sono molto preoccupato penso che gli sia successo qualcosa se qualcuno di voi ha informazioni notizie l'ha visto questo pinguino alto 53 cm di colore blu con il becco arancione simpatico spansivo parla con tutti se qualcuno ha informazioni mi contatti per favore aiutatemi sono molto preoccupato grazie